Oggi è martedì 12 marzo e si festeggia San Massimiliano. Il proverbio del giorno è quando marzo non marseggia, sarà april che lo pareggia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, vi sentite intrappolati da impegni e attività che non vi piacciono? Delegati ad altri, accettando l'idea che siete utili ma non indispensabili. È sbagliato tenersi tutto dentro? Parlate dei vostri problemi senza paura di mostrare le vostre debolezze. Toro, rimandando le incombenze più noiose e driblando un impegno familiare con diplomazia, vi godrete questa giornata in piena libertà. Coglierete al volo un'opportunità unica, irripetibile e osate di più perché la fortuna aiuta gli audaci. Gemelli, fate leva sulla ragionevolezza per mettervi al riparo dal disagio emotivo scatenato dalla luna in pesci che distorce i contorni della realtà, sbalzi di umore, imprevisti, ostacoli che, alla luce del vostro pessimismo, vi appaiono insormontabili. Cancro, bella la vita con la luna in pesci, specialmente se avete bisogno di fare il pieno di emozioni per dare una bella scossa alle vostre giornate. Un piacevole imprevisto rivoluzione ai vostri programmi creando un'occasione da cogliere al volo. Leone, anche se il vostro amore oggi non brilla, cercate di condividere con gli altri le vostre emozioni. Chiudersi in difesa non serve a niente. Sentite il bisogno di fermarvi e riflettere per dare una svolta ad alcune situazioni insoddisfacenti. Vergine, come di consueto, la luna in pesci vi mette alle strette, soprattutto sul fronte dei rapporti a due. Emozioni represse esplodono all'improvviso. Non è il caso di lasciarsi prendere la mano da dubbi o incertezze e agire avventatamente. Aspettate che passi. Bilancia. Nel lavoro un nuovo progetto stenta a decollare? Se a vostro avviso è valido, riguardatelo nei dettagli e riproponetelo con più convinzione. L'atmosfera serena vi aiuta a fare tesoro delle gioie semplici e a non rincorrere sogni più grandi di voi. Scorpione. Con la luna in pesci le sorprese piovono a bizzeffe. Incontri fulminanti, occasioni d'oro ed esperienze positive vi regalano gioia di vivere. Il buon umore alle stelle forse vi si presenterà anche l'occasione per fare un piacevole viaggetto. Sagittario. Barca menarsi con la vita pratica, specie se gli altri fanno di tutto per complicarvela, non è facile per voi, ma oggi non potrete farne a meno. La luna penalizza la comunicazione, mentre impegni di lavoro, imprevisti, mandano in fumo i programmi. Capricorno. Beneficiando della luna, favorevole in pesci, la giornata scorre piacevolmente vivacizzata da amici, viaggi, svaghi e colpi di scena in umore. Notizie emozionanti, SMS graditissimi e la ricomparsa sorpresa di una ex fiamma mai dimenticata. Acquario. Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti a risolvere una questione per assicurarne la buona riuscita. Dunque impegnatevi. È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita professionale. Pesci. Avete ottime ragioni per sentirvi su di giri, viste le novità che movimentano la giornata. Non fatevi guastare la festa dai pregiudizi altrui, il futuro è rosa. Fate spallucce alle critiche e tuffatevi tra le braccia di un nuovo esaltante amore.